Buonasera, amici di Lux, Università della Conoscenza, buonasera e bentrovati a questa chiacchierata che faremo su Maria Montessori. Maria Montessori è una personaggio al quale ho dedicato molta attenzione, ho scritto su di lei anche un libro che è uscito qualche anno fa, eccolo qua, Maria Montessori, una biografia uscita con le edizioni mediterranee, si trova facilmente ed è una biografia della nostra grande pedagogista che tiene conto anche di un periodo che in genere nelle biografie precedenti, e ce ne sono state parecchie, non viene considerato, cioè i dieci anni che lei ha trascorso in India. Lei quando aveva quasi 70 anni andò in India e rimase là fino a quasi 80 anni compiuti, quindi un periodo lungo e durante questi anni fece delle scoperte molto importanti. Di lei, io a volte ho scritto degli articoli su di lei intitolandoli Maria Montessori questa sconosciuta e credo che questo sia vero perché di lei si sa che è stata una grande pedagogista che ha rivoluzionato il metodo didattico per i bambini e tutte queste cose qua, però si ignorano tante altre cose, per esempio questo che ho detto adesso, dei dieci anni in India, pochissimi ne sono a conoscenza, furono anni come vedremo molto importanti. Non si sa per esempio che fu proposta tre volte per il Nobel per la pace nel 49, 50 e 51 e il Nobel per la pace non le fu assegnato molto probabilmente perché benché avesse lei e il figlio avessero lasciato l'Italia già da molti anni in combutta in risa con Mussolini, in disaccordo con Mussolini, appartenevano pur sempre a una nazione che aveva perso la guerra. Lei aveva scritto, mentre eri in India, dei testi molto importanti sulla pace, dei testi che hanno fatto veramente a epoca e per questi anche per tutta la sua in interrotta attività a favore della pace, le fu proposta appunto tre volte che è un grande risultato. Poi lei è stata un'ambientalista antelittera, ha sempre avuto interesse per il mondo circostante, ha sempre voluto che i bambini conoscessero l'ambiente perché amando l'ambiente naturalmente si vive meglio e si ha cura dell'ambiente. Vedremo anche questo poco per volta. E poi in India fece un'altra scoperta molto importante, cioè cominciò a occuparsi dei neonati, dei bambini piccolissimi e scrisse sui piccolissimi, sul modo di farli nascere, delle cose che solo parecchi anni dopo il ginecologo francese Frédéric Leboillet, che ha scritto un bellissimo libro per una nascita non violenta, lei queste cose le aveva dette prima. Però è tutto poco noto perché la sua fama di pedagogista probabilmente ha oscurato tutto il resto, questa grande rivoluzione che lei ha effettuato. Però vanno tenute, se la si vuole conoscere bene, a tener conto anche di queste cose. Anche l'educazione cosmica è un elemento importante. Comunque vedremo tutte queste cose poco per volta in questa oretta che abbiamo a disposizione. Allora, Maria Montessori nasce nel 1870 e l'anno scorso, 2020, doveva essere festeggiato e celebrato ampiamente il centocinquantenario della nascita, però tante cose che erano in programma, per esempio un grande congresso organizzato dall'Opera Nazionale Montessori di Roma non è stato realizzato per via del Covid e così via altre iniziative. Speriamo che questo possa essere recuperato nell'autunno prossimo. Quindi 150 anni in pratica dalla nascita e è vissuto 83 anni. Lei nacque a Chiara Valle, che è una cittadina, piccola cittadina in provincia di Ancona. Il papà era un amministratore dello stato pontificio. Nel 70 poi chiaramente lo stato pontificio smise di esistere, però il papà nella sua carriera questo era stato. Rimase sempre impiegato appunto nell'amministrazione di questo stato e quando la bambina aveva 4 anni la famiglia si trasferì a Roma per il lavoro del padre. Quindi lei praticamente tutta la sua vita di studio, operativo eccetera l'ha svolta a Roma. Però non dimenticò mai Chiara Valle e vuole tornarci anche negli ultimi anni della sua vita, proprio un anno o due prima di morire, vuole ritornare. Chiara Valle non ha mai dimenticato lei perché l'aiutarono in tante occasioni, addirittura fecero delle collette per quando lei era una ragazza per finanziare dei viaggi all'estero, come vedremo. Quindi lei va a Roma con la famiglia, studia, gli studi a famiglia era una famiglia accolta, il papà come dicevo era un diplomato che lavorava nell'amministrazione, la mamma era in casa però all'epoca sua le donne non potevano andare all'università, per cui lei non aveva fatto l'università, però era una donna accolta che si era con solide letture, si era creata una solida, una valida cultura. Quindi fu sempre molto vicina una figlia e la spinse moltissimo, questa figlia unica fra le altre cose, non ci furono altri figli. Maria Montessori rivelò molto presto una tendenza verso le materie scientifiche, cosa abbastanza inusuale all'epoca. Le donne facevano magari, se studiavano, facevano il corrispondente delle attuali scuole magistrali, cose di questo tipo. Lei invece volle frequentare un istituto tecnico, sia un istituto tecnico a livello di scuola media, che allora c'era ancora la suddivisione, che adesso c'è la scuola unica ma all'epoca no, e poi frequentò un istituto tecnico superiore, e quindi sempre il regio istituto tecnico di Roma. Quindi sempre con molta attenzione alle materie tecniche, alla fisica, alla chimica, alla biologia, queste materie qua. E quando si trattò di andare all'università lei aveva optato per ingegneria, che questa era una scelta avveniristica per una donna di quell'epoca, scegliere ingegneria. Però lei aveva sempre detto che voleva fare ingegneria, e questo era un grande disappunto del padre, il quale pensava che per una ragazza sveglia e intelligente, l'unico sbocco possibile fosse l'insegnamento. Si poteva all'epoca accettare appunto al massimo che una signorina di buona famiglia optasse per l'insegnamento, per sposarsi, per avere dei figli e poi per insegnare. Ma lei cominciò subito a disilludere la volontà paterna e cominciò a pensare, pensava già da tempo, che avrebbe fatto l'ingegnere. Poi quando stava per iscriversi alla facoltà di ingegneria, quindi dopo la maturità, successe un fatto e ne successero diversi nella sua vita e lei parlò in questi casi di rivelazione. Maria Montessori è una delle cose che non si sanno di lei, per esempio, è che è molto più vicino alle tematiche esoteriche di quanto si possa pensare. Lei parlò di rivelazione, di illuminazione per certe scelte fondamentali della sua vita, per cui questa che sto per raccontare adesso. Lei quando stava per iscriversi alla facoltà di ingegneria, vide per strada a Roma una povera donna seduta per terra che chiedeva l'elemosina e in braccio aveva un bambino. Questo bambino come unico giocattolo aveva un nastrino rosso e se lo arrotolava intorno al dito e poi lo srotolava e poi se lo tornava ad arrotolare e poi lo srotolava. Ecco, lei fu colta da una tale pietà e compassione e partecipazione nei confronti di questo bimbo, che non aveva nessuna possibilità di evolvere, di fare una serie di studi normali come tanti altri bambini e che come unico giocattolo aveva questo nastrino e che stava tutto il giorno seduto in braccio alla mamma che chiedeva l'elemosina per suscitare più pena, perché la presenza di un bimbo suscita sempre tenerezza e pietà, che decise di aiutare, per cui cambiò la sua destinazione e invece che in ingegneria si iscrisse a medicina. Fu una decisione di un attimo e dopo parlandone appunto parlò di rivelazione, lasciando intendere anche con gesti della mano, questo l'hanno raccontato quelli che erano presenti, che ci sono più cose nell'animo umano di quante non si possa pensare. E così lei si iscrisse alla facoltà di medicina e non fu facile, non fu facile perché all'epoca le donne che andavano all'università erano poche, quelle che facevano medicina ancora meno. È stato scritto che lei è stata la prima donna a laurearsi in medicina in Italia, non è così, una delle prime, fu l'unica dell'anno, l'anno in cui si laureava lei c'era soltanto lei, però c'erano alcune altre donne, ma diciamo che si contano sulle dita di una mano. Lei dovette subire anche un po' l'ironia dei maschi, le lasciate scritte queste cose nelle sue lettere, nei suoi scritti che ho potuto consultare, soprattutto nelle aule di dissezione, pensavano di poterla mettere in imbarazzo, ma lei si fece molta forza e riuscì a meritarsi non solo la stima degli insegnanti, perché era bravissima, ma anche la stima dei colleghi maschi, degli studenti. Quindi alla fine uscì veramente a testa alta da questa. Il padre, che era stato contrarissimo a questa sua iscrizione a medicina, alla fine vide che andava così bene, che era così apprezzata e stimata, la co-divò. Pensate che i primi tempi il padre l'accompagnava sempre all'università e l'andava a prendere, perché era disdicevole che una ragazza giovane, 18 anni, 19 anni, 20 anni, andasse da solo all'università, che era frequentata prevalentemente da maschi, quindi erano ben altri tempi. Siamo negli anni 1890, intorno agli anni 90 del XIX secolo. Lei dimostra subito una predilezione per certe materie, cioè per la pedagogia, per l'igiene e per la psicologia, per la psichiatria, per l'esattezza. E comincia, fin dagli anni universitari, a frequentare in particolare i laboratori e gli istituti che si occupano di queste cose. Intanto lei ha degli sbocchi anche diversi da quelli della medicina, perché lei è nota a Roma, è nota perché è una delle pochissime donne, ragazze, che studia medicina, ed è nota anche perché è brillantissima, è una studentessa molto brillante. Lei ha sempre sostenuto il diritto della donna allo studio, la parità di diritti, quindi siamo in epoca di inizi del femminismo e lei viene invitata proprio ufficialmente dai movimenti femministi a rappresentare l'Italia a importanti congressi femministi all'estero. Infatti va a Londra, va a Parigi, va a Berlino, presentando un tipo di femminismo diverso, cioè un femminismo che piace anche agli uomini, cioè di una ragazza, di una fanciulla molto elegante, molto fine, con i guanti, tutta ben vestita, che sostiene appunto questo diritto della donna, per esempio, ad essere pagata come come l'uomo per fare lo stesso tipo di lavoro, sostiene anche i diritti dei bambini, che all'epoca venivano mandati per esempio in miniero, oppure a fare altri lavori pesanti, ricevendo uno stipendio minimo, maltrattati, non curati, eccetera, eccetera. Quindi per un po' di tempo porta avanti anche questo discorso femminista. Adesso se la trovo, ho qui nel libro una fotografia di Maria Montessori, quando era molto giovane, che era anche molto bella. Noi siamo abituati a vedere questa fotografia dell'immagine di Maria Montessori, eccola qua, Maria Montessori piuttosto pesante, una fotografia che la ritraggono quasi sempre anziana. Invece, eccola qua, quando era giovane, nell'epoca dell'università, era così, era questi bei capelli, il vittino di vespa che perse rapidamente, vestita elegantemente, quindi così si presentava ai congressi femministi e quindi piaceva moltissimo. Ho trovato anche articoli di giornali che lodano questa rappresentante italiana dei movimenti femministi, che è così elegante, che esprime con tanta grazia, con tanto garbo, però cose molto forti. Quelle che appunto ho detto, il diritto della donna a un certo tipo di trattamento, uguale stipendio, diritti dei bambini e così via. E quindi fa anche questo, questo è molto importante per lei. Quindi lei a un certo punto porta avanti parallelamente questo tipo di discorso, intanto frequenta l'università e in un laboratorio, quello di psicologia, incontra l'uomo che poi fu padre di suo figlio. Questo era un medico di qualche anno più grande di lei, Montesano, Ferruccio Montesano, non era di Roma, se non ricordo esattamente da quale altra città, e si innamora di questo, questo è uno dei misteri ancora presenti nella vita di Maria Montesoria. Non il fatto che si innamori perché è perfettamente normale, ma quello che vi dirò adesso, perché lei si innamora di questo Ferruccio Montesano, resta incinta, partorisce in gran segreto, tiene nascosta la gravidanza, riesce a tenerla nascosta perché in questo periodo è molto all'estero, andò all'estero anche per seguire i metodi di studio che si hanno all'estero per i bambini, partorisce in segreto a Roma e il bambino viene dato subito in Balia, a Covaro, che è un paese abbastanza vicino a Roma. Non si è mai capito e non si sa ancora perché i due, pur essendo liberi entrambi, evidentemente anche innamorati perché hanno messo al mondo un figlio, non si siano sposati. Si sa questo che lì per lì il bambino venne denunciato solo dalla madre e il padre lo riconobbe quando il bambino aveva tre anni, si è trovato il documento di nascita, il stato di nascita del bambino e in fondo c'è scritto che dopo tre anni della nascita del bambino, in quella certa data, è stato riconosciuto dal padre. Si sa poi che una settimana dopo aver riconosciuto il figlio Montesano sposò un'altra donna e questo fa pensare che lui si sia stancato della Montessore, si è innamorato di un'altra, abbia deciso di sposarsi e che probabilmente lei e la Maria Montessori abbia in qualche modo dato il consenso a questo nuovo matrimonio se lui avesse riconosciuto il figlio. Questa è un'ipotesi, però viene fatta abbastanza accreditata. Il fatto che questa coincidenza di una settimana di tempo tra... e quindi lei viene abbandonata, Maria Montessori viene abbandonata da Montesano e questo fu per lei motivo di grandissimo dolore, di grande disperazione. però si riprese e riprese appunto poi la sua attività alla maniera brillante e coraggiosa che è sempre stata sua e di lei poi non si conoscano altre relazioni affettive, almeno sarebbero venute alla luce perché poi ha avuto una vita sempre sotto i riflettori per cui si sarebbe saputo. Comunque c'è questo bambino nato in gran segreto, bambino che il padre praticamente non lo vide mai, il padre se ne occupò molto poco soltanto economicamente fino alla terza media mi sembra e lei pur non avendolo tenuto con sé andava a trovarlo periodicamente senza dirgli di essere la madre. Però poi lui a un certo punto lo capì, ma questo avviene 15 anni dopo. Adesso andiamo avanti come Maria Montessori è diventata Maria Montessori, cioè nell'epoca in cui lei frequentava il laboratorio all'università, i laboratori anche dopo la laurea, il laboratorio di psichiatria, fu incaricata di andare in quelli che gli istituti praticamente corrispondenti a manicomi dove venivano internati bambini ritenuti irrecuperabili e che venivano chiamati tucur idioti e quindi per loro non veniva fatto niente praticamente, venivano parcheggiati lì e lei andava a visitare questi bambini per vedere se qualcuno di loro era suscettibile di essere portato avanti perché non si faceva praticamente niente. Lei viene colta da grandissima compassione per queste creature che vede riunite in grandi stanzoni senza nessuno stimolo, senza niente da fare e che quindi lei capisce che il problema di questi bambini non è medico ma è pedagogico, cioè questi bambini hanno bisogno di stimoli, hanno bisogno di essere aiutati da questo punto di vista e quindi per due anni si dedica a questo lavoro, cioè a educare questi bambini e è lì che comincia a inventarsi il suo metodo e anche inventarsi i materiali perché la scuola Montessori non prescinde dai materiali che lei ha ideato e cominciò allora a ideare quelli che adesso alcuni li vediamo realizzati nel Lego, in quello che senza parlare di Montessori si trova in tutti i negozi di giocattoli, cioè le torri da mettere uno, gli incastrino sopra l'altro, i giochi incastro, il Lego per esempio, ecco lei cominciò a pensare in legno si fece realizzare queste prime cose per educare questi bambini e arrivò lei, questa sua sperimentazione ebbe a Roma tanto successo perché nel giro di due anni lei riuscì a portare una parte di questi bambini a sostenere, a leggere e a scrivere, insegnò a leggere e a scrivere a questi bambini e riuscì a portarli a superare gli esami uguali identici ai bambini più fortunati che non avevano avuto questo problema, quindi lei diventò anche molto famosa da questo punto di vista proprio perché aveva fatto questa sperimentazione, quindi parallelamente alla sua difficile situazione familiare, la delusione amorosa che lei ha avuto, questa certamente angoscia per avere un bambino che non può allevare, si chiederà ma perché non se l'è tenuto? Anche questo è motivo di, perché non l'ha tenuto con sé, anche questo è motivo di interrogativi che ancora non si sono risolti, intanto pensiamo che erano altri tempi, erano altri tempi per una ragazza in carriera come era lei, non sposata perché il suo compagno se ne andò, avere un bambino da allevare, insomma l'istituto della ragazza madre che oggi è accettabilissimo, accettato, nessuno si pone il problema, all'epoca era veramente un problema grosso, poi lei aveva una mamma che teneva molto a lei, che era molto intransigente e che certamente la influenzò in questo senso, cioè pensando che allevare un figlio le avrebbe creato degli intralci per la sua carriera, insomma morale, il bambino rimane in affido e lei lo va a trovare periodicamente, gli porta il giocattolo, gli porta i libri, lo mantiene e così via. E quindi lei va avanti con questa sua sperimentazione tutta nuova, che cominciò appunto con i bambini ritenuti deficienti o idioti, li chiamavano così senza nessun tipo di riguardo. Però rendendosi conto di quello che aveva ottenuto con i bambini così menomati, un po' ritardati, un po' sfortunati, lei comincia presto a pensare che questi metodi messi a punto avrebbero avuto certamente un successo anche maggiore con i bambini normali, con i bambini più fortunati, che erano metodi che veramente funzionavano. E a questo punto si inserisce, e qua siamo all'inizio del secolo scorso, si inserisce una iniziativa che dà la svolta a tutto, e cioè viene creata, lei può creare la prima casa dei bambini, e il discorso è questo, che un imprenditore di genio costruisce in un quartiere di San Lorenzo a Roma, che era un quartiere degradato all'epoca, oggi non più, ma era un quartiere degradato, costruisce delle case popolari, case popolari molto grandi, abitate da operai, sia il papà che la mamma in genere andavano a lavorare e i bambini restavano a casa. Quelli più grandi andavano a scuola, quelli piccoli, non ancora in età scolare, restavano da soli con grave pericolo e danni di farsi male e così via. E allora questo imprenditore, che è di genio e che è socialmente molto avanzato per l'epoca, costruisce in queste case, diciamo, dedica in queste case uno spazio, una bella stanza grande, per i bambini, per tenere i bambini e si ipotizza anche una maestra che li tenga a bada in questo periodo e che faccia per loro qualche cosa. Bambini in età prescolare, quindi prima dei sei anni. Maria Montessori, che era già nota per le sue sperimentazioni a Roma, viene invitata a occuparsi di questo progetto. E quindi nasce la prima casa dei bambini, prima casa dei bambini, così lei la chiamò, e non ha continuato sempre a chiamarsi così, lei riceve questo primo camerone, stanzone, attrezzato con dei banchi da adulti, con dei tavoloni e una cinquantina di bambini, che inizialmente sono, è un grande evento questo, è importantissimo per tutta la sua formazione, che inizialmente sono bambini timidi perché non sanno spaventati, non sanno cosa succederà, però poi tutte le cronache dicono che nel giro di pochissimo tempo diventò questi 50 bambini una comunità di bambini felici, attivi, ordinati, perché i bambini hanno bisogno di fare, hanno bisogno di essere messi in condizioni di fare. E allora lei cominciò subito con cose che adesso sembrano normali, ma all'epoca no. Cominciò a farsi costruire, per esempio, dei banchi piccolini e delle seggioline piccole, perché lei aveva ricevuto, come dicevo prima, questo stanzone con dei banchi da adulto. I bambini erano scomodissimi, quindi lei chiamò a raccolta i suoi amici romani, fece una colletta e si fece costruire dai falegnami questi piccoli banchi e piccole seggioline. Poi i bambini hanno tutti un grembiolino, la famiglia è tenuta a mandarli puliti e lavati a scuola. La stanza è fornita di un bagno con l'acqua calda e fredda, i bambini devono essere abituati a lavarsi. C'è anche un po' di giardino, un po' di prato, quindi comincia subito l'amore di Maria Montessori per la natura e per l'importanza che lei attribuisce al fatto che i bambini siano in contatto con la natura. Nelle sue scuole, nelle sue classi non manca mai, se c'è un pesettino di terra la coltivano, altrimenti hanno dei vasi dove tengano dei fiori, dove mettano i semi. E c'è sempre anche un uccellino, una gabbietta con un uccellino, oppure i pesci rossi, in modo che il bambino sia a contatto in qualche modo con la natura. Dà per tutto, in tutte le sue classi, una copia della famosa immagine di Raffaello, della Madonna della Seggio, la Madonna seduta con il bambino in braccio. Questo è un rito. E poi tutto quello che è la vita quotidiana dei bambini. Allora i bambini si aiutano fra di loro, i bambini servono a tavola, fanno tutte queste cose per imparare ad essere più abituali, più svelti, più abili nelle cose, a turno svolgono determinati compiti, lavorano scegliendo il materiale. Questa è una cosa fondamentale che lei ideò, una cosa del tutto nuova. Il bambino sceglie il materiale con cui lavorare, sceglie liberamente, e quando ha finito lo ripone. Il bambino, lei non dimentica di essere medico, il bambino viene regolarmente, cose che oggi vengono fatte, ma allora no, erano delle grandi innovazioni. Il bambino viene regolarmente pesato, misurato per l'altezza, visitato dal medico. Il cibo viene calibrato, anche dei menù appunto per i bambini. Pensate che allora non esisteva niente di tutto questo. Oggi sono cose normali, ma allora non ci aveva pensato nessuno. Quindi questi bambini che sono nel suo caso sono bambini felici e contenti perché collaborano fra di loro. Maria Montessori, da chiarire, è che non insegnò mai lei direttamente i bambini. Lei osservava la maestra che era stata data per questa classe e lei osservava i comportamenti dei bambini. Lei sempre ha fatto questo. Ha osservato i bambini, lei ha imparato dai bambini a come rapportarsi con loro e per imparare a conoscerli fino in fondo. È proprio la scoperta del bambino da parte. Il bambino lavora, il bambino ama lavorare. Lei le chiama lavoro, il gioco del bambino. Il bambino ama lavorare e ama anche lavorare in maniera ordinata. Per cui questi compiti che lei dà ai bambini, tutto come dicevo prima, le torri, gli incasti, tutte queste cose che il bambino comincia ad avere una certa destrezza con le mani e poi ci sono i cartoncini con le lettere, i cartoncini con i numeri per imparare a fare i primi conti, per imparare a scrivere e così via. Il bambino ama fare queste cose e finché non ha svolto il compito insiste nel farlo e poi quando ha finito è sollevato, è contento e deposita, va a mettere in ordine le cose. Maria Montessori è stata accusata di non tenere la disciplina. Non è così. Disciplina nella libertà. Ecco, questo è il discorso giusto. Disciplina nella libertà. Cioè il bambino è libero di muoversi, di scegliere le cose con cui lavorare, però rispettando la libertà degli altri. Quindi essere molto disciplinato però con questa libertà di movimento. Quindi questo dà anche sicurezza, dà autodisciplina al bambino, dà sicurezza dei suoi mezzi, gli fa capire fin dove può arrivare, eccetera. E quindi questa scuola modello divenne e che fu imitata poi prestissimo da molte altre scuole, furono create numerose altre case dei bambini, Pensate che a Roma la regina Margherita andava ad assistere alle classi di Maria Montessori perché questo fece lo scalpore, fece lo scalpore in una maniera straordinaria. Quindi pensate appunto alla regina Margherita che andava ad assistere, quindi con la sua autorevolezza dava veramente il placet a tutto questo straordinario lavoro che poi suscitò un grandissimo interesse. E intanto, questo passa naturalmente del tempo, vengono create altre scuole, lei mette appunto il suo metodo. La prima casa dei bambini è del 1907, due anni dopo, nel 9, lei scrive il suo libro fondamentale, che è il metodo della pedagogia scientifica, applicata, è un lungo titolo, ma è nota come il metodo, dove scrive tutte queste cose, quello che in poche parole qui ho detto, normalmente molto ampliato e dettagliato, ho detto molto meglio di come ve l'abbia detto io, perché tra l'altro è un libro notevole. Quindi lei scrive questo libro che ha un successo enorme e viene tradotto in tantissime lingue. Quindi lei diventa rapidamente molto famosa e comincia anche abbastanza rapidamente a tenere a Roma, il primo in casa sua e poi in altre sedi, i suoi corsi che divennero famosissimi, corsi per insegnanti, non per bambini. Lei ha sempre insegnato agli insegnanti, per far sì che diventassero capaci di insegnare ai bambini. I suoi corsi, la traduzione del libro in varie lingue, tra cui l'inglese, il tedesco, il francese, eccetera, porta a Maria Montessori un'infinità di allievi che vogliono imparare il suo metodo per poi portarlo nel loro paese. Arrivano anche dall'India, arrivano dall'America. Fu veramente un movimento straordinario. Questi corsi che lei fa a Roma richiamano un'infinità di studenti un po' da tutte le parti. e anche se non c'era internet e non c'erano i telefonini, la voce si era diffusa, si diffondeva ugualmente, tant'è vero che appunto lei ebbe tutta questa. E nel frattempo, nella sua vita privata, succede un cataclisma positivo, benefico, perché suo figlio, che si chiama Mario, come lei, viene a vivere con lei. La cosa andò così, cioè Mario ormai ha 15 anni. a 15 anni e nel 13 questo avviene. Era nato nel 98 quando lei aveva 28 anni. Nel 13 Mario, che non è più a Baglia, ma è in Toscana, a Castiglione Fiorentino, in un collegio e studia lì. E lei va a trovarlo lì periodicamente, prende un taxi, una macchina, lo va a trovare, gli porta i libri e non gli dice ancora, questa è un'altra cosa misteriosa, che lei solo in testamento disse, lascio tutto a mio figlio. Prima lei ha sempre detto che era un figlio adottivo, non l'ha mai riconosciuto come figlio naturale, sempre per quei timori dell'epoca e così via. Anche se la gente forse sospettava, ma lei non lo ammise mai. Lei va a trovare il ragazzo a Castiglione Fiorentino e lui che ha 15 anni, che è intelligente, ha fatto 2 più 2 e dice questa donna che mi viene a trovare, che da quando ha memoria, lui l'aveva vicino a sé, perché lei periodicamente andava a trovarlo, gli dimostrava affetto, gli portava regali, eccetera, eccetera, non può essere che mia madre. Glielo dice e sale in macchina con lei e viene a Roma con lei. È successo che nel frattempo, pochi mesi prima, era morta la mamma di Maria Montessori, che era quella che maggiormente si opponeva a questa cosa e lei è rimasta col padre che invece accoglie molto bene il ragazzo e quindi Mario va a Roma con la mamma e il nonno e vive e vive con loro e studia, perché stava già studiando e continua a studiare e lì succede un fatto meraviglioso che Mario e Maria diventano una coppia inseparabile e ci si è anche chiesti come questo ragazzo abbia potuto superare i 15 anni di solitudine, di abbandono quasi, anche se non si è stato trattato bene, nel senso che ha studiato in buoni collegi, eccetera, però senza la famiglia, abbandono affettivo. Invece no, io ho trovato una lettera scritta da una delle figlie di Mario che spiega questa situazione e come lui abbia sviluppato questo amore, questo rispetto, questa devozione per la madre che gli fece poi vivere una vita all'ombra di lei, aiutandola moltissimo, perché lui si dedicò al lavoro della madre e nel mio libro ho anche valutato, ho rivalutato molto il ruolo di Mario nelle dottrine di lei, perché lui ebbe dei ruoli molto importanti nello sviluppo della pedagogia di sua madre, però lui con la grande amore, la grande dignità di restare dietro alla madre, di mandare sempre avanti lei. Lui ha scritto sulla madre delle cose commoventi, era un bell'uomo, era un uomo con delle capacità sue notevoli e io sono stata contenta nel mio libro di avergli dedicato un capitolo perché raramente questo gli viene dedicato, ma lo merita e questo è stato riconosciuto anche dalla famiglia che apprezzato dalla famiglia che io abbia appunto scritto questo capitolo. Con la famiglia intendo per esempio Carolina Montessori che è una bisnipote di Maria Montessori che vive in Olanda come poi tutta la famiglia che ho avuto occasione di incontrare più volte e mi ha detto appunto lei che lei stessa e la famiglia avevano apprezzato questo aspetto. Maria Montessori intanto viene chiamata all'estero e comincia quella vita nomade che l'ha poi accompagnata sempre, fino all'ultimo giorno. Lei è stata una nomade perché per tenere questi suoi celebrini corsi lei è andata un po' in tutto il mondo, intanto in tutta Europa, che ha viaggiato instancabilmente in tutto, ma erano corsi che duravano mesi, erano cose lunghe, stava all'estero a lungo, e in America. Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale Mario sta per compiere i 18 anni, lei lo porta con sé in America proprio per evitare che venga, siccome si sapeva che la guerra sarebbe scoppiata, per evitare che lui venga arruolato, così giovane. Mario in America si innamora di una ragazza, si sposa e fabbrica rapidamente quattro figli. Questo matrimonio poi non va bene, quindi lui ritorna poi in Europa con i figli. Maria Montessori, che non è stata mamma di un bambino piccolo, dopo è stata una bravissima nonna. Ci sono anche qui dei commenti dei vari nipoti, di che tipo di nonna era e così via. E quindi passa la guerra, Maria Montessori continua sempre in questa sua attività, nelle pubblicazioni e attività di diffusione del suo metodo, fondazione di scuole sia in Italia che all'estero. Adesso devo andare rapidamente perché il tempo passa, arriviamo all'era tra le due guerre, all'epoca di Mussolini. In un primo tempo lei ha un ottimo rapporto con Mussolini perché avevano un reciproco interesse a essere positivi uno nei confronti dell'altro. Cioè lei aveva bisogno di un uomo forte che l'aiutasse a imporre, a far conoscere il suo metodo ancora di più. Infatti poi il suo metodo fu accolto nella riforma Gentili, dove per la prima volta furono istituzionalizzate le scuole per i bambini piccoli nell'età prescolare, grazie a lei appunto. E Mussolini, che aveva una nazione che ancora era in gran parte analfabeta, aveva bisogno di lei per alfabetizzare la nazione. Quindi per parecchio tempo i rapporti furono molto buoni tra i due. Poi la situazione cominciò a peggiorare perché non ho ancora detto che Maria Montessori era teosofa. Maria Montessori è riscritta alla società teosofica, si è riscritta in Inghilterra. Quando andava in Inghilterra per studiare i metodi didattici e anche per le cose dei femministi, si è riscritta alla società teosofica. Tutti sappiamo che la società teosofica aveva tre principi di base, adesso non ho tempo qui di dire esattamente cos'era, però aveva i principi di base, adesso li leggo per non perdere tempo, che sono formare un nucleo della fratellanza universale senza distinzione di razza, credo, sesso, casta o colore. incoraggiare lo studio comparato delle religioni, delle filosofie e delle scienze, investigare le leggi inesplicate della natura e i poteri latenti dell'uomo. Allora, se abbiamo presente il primo principio della società teosofica, cioè fratellanza universale senza distinzione di razza, credo, sesso, casta o colore, Maria Montessori non poteva apprezzare né il militarismo di Mussolini crescente né la sua accettazione delle leggi raziali. E quindi già nel 1934 si arriva a forti disaccordi con Mussolini al punto che, fra l'altro, il regime fascista ha intromissioni sempre maggiori nella scuola, sappiamo che gli insegnanti dovevano essere iscritti al partito fascista e sappiamo che c'erano delle ingerenze anche nei programmi. Maria Montessori era una donna forte, volitiva, sicura di sé, non poteva accettare questo. Poi il militarismo, le leggi raziali, per cui insieme al figlio Mario e tutta la famiglia di Mario, i figli cioè, lasciano l'Italia nel 1934 e non farà più ritorno in Italia se non per un convegno, proprio un anno prima di morire. E si trasferiscono prima in Spagna, dove Mario fa in tempo a partecipare a Mario, era un tipo molto focoso, molto appassionale, fa in tempo a partecipare alla guerra civile spagnola, per fortuna non gli succede niente, e poi vanno in Inghilterra e poi finalmente in Olanda, dove le dottrine di Maria Montessori hanno avuto una grandissima accoglienza. Si stabiliscono in Olanda e lì vive tuttora la famiglia Montessori, che lì c'è l'archivio Montessori, lì è morta lei quando è tornata dall'India, e si trasferiscono lì e lì lei si ricostruisce un'esistenza. Quindi anche una grande forza nel cambiare residenza, ricostruire tutto da capo. Intanto continua a fondare scuole che poi in tutta Europa ci sono state fondate queste scuole, queste scuole Montessori. E lì, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, nel 1939, succede qualche cosa che è molto importante per Maria Montessori. Infatti lei riceve la visita di George Arundel. George Arundel era un pedagogista inglese, presidente della Società Teosofica. La Società Teosofica era diffusa in tutto il mondo, ma aveva la sua sede in India, ad Ajar. Ajar è alla periferia di Chennai, cioè di Madras. Chennai è il nome attuale di Madras. Una sede stupenda che ho visitato, e lì il quartier generale. Da lì veniva organizzata tutte le... che la Società Teosofica è internazionale ed è presente praticamente in tutto il mondo. Anche in Italia c'è una bella sede. con il segretario generale a Vicenza, che è interessato, può guardare su internet e trovare tutto questo. Riceve la visita di George Arundel, che la va a trovare, in suo soggiorno in Italia, in Europa, e le chiede ad andare in India a tenere uno dei suoi celebratissimi corsi, corsi che duravano da tre a sei mesi. E lei accetta. Le aveva ricevuto dall'India già in precedenza gli inviti ad andare a tenere i corsi, però i corsi erano lunghissimi. Non c'era stata la possibilità di accettarli proprio per mancanza di tempo. Adesso che lei si è stabilizzata in Olanda, che è tranquilla, accetta il momento di accettare, ha voglia di farlo. E quindi accetta e parte con Mario. Partano loro due. Nell'autunno del 1939. Partano, pensate, lei ha quasi 70 anni. Non era una 70enne pimpantissima, diciamo così, dal punto di vista fisico, perché ha l'aspetto che siamo abituati a conoscere. Cioè era piuttosto pesante, aveva le gambe grosse, era una signora certamente non svelta nel movimento, aveva anche qualche problema di salute. Non importa, lei parte, fanno il viaggio in aereo, pensate nel 1939, insomma, un viaggio lungo. E arrivano fino a Delhi. Poi a Delhi, con un volo, Madras nel sud dell'India, con un volo locale, raggiungono Madras. Allora, questo aereo, col quale vengono prelevati a Delhi, è guidato personalmente da Mr. Tata. Mr. Tata è stato il primo indiano ad avere un brevetto di pilota ed è un industriale poderoso in India. famosissimo. Il fatto che Mr. Tata, pilotando lui stesso l'aereo, va a prendere Maria Montessori dal suo volo intercontinentale e la porta a Madras, è un segnale dell'estremo gradimento del governo indiano per la sua presenza. Cioè, qualcosa non è un riconoscimento privato, è un riconoscimento pubblico dell'importanza della sua andata. La viene accolta come una regina, viene organizzato questo corso, al quale partecipano 300 persone. È all'interno dell'enorme giardino della sede del quartier generale della società teosotica. Arrivano gli indiani, gli insegnanti indiani, da tutta l'India, arrivano anche da Janzibar, arrivano anche da nazioni vicine, perché questo insegnamento di Maria Montessori era noto in India perché il libro era stato tradotto in inglese, quindi lo conoscevano, e Maria Montessori nei corsi precedenti tenuti in altre città italiane e europee aveva avuto degli allievi indiani. E quindi è un corso che ha un successo enorme, comincia, fate conto, a ottobre-novembre e sarebbe durato fino alla primavera. Solo che in primavera, e loro avrebbero dovuto ritornare in Europa, succede che scoppia la guerra, cioè l'Italia entra in guerra nel 1940, l'Italia entra in guerra e l'Italia è alleata della Germania, l'India è un protettorato inglese, quindi praticamente l'Italia è considerata alleata del menico. E quindi Maria Montessori e Mario vengano, diciamo così, quasi prigionieri. Lui viene messo in un campo di concentramento e lei è confinata all'interno della società teosofica che non si può muovere. E questo suscita un'allevata di scudi internazionale perché si sapeva benissimo che lei aveva lasciato l'Italia in dissidio con Mussolini, quindi non aveva a che fare con il regime che aveva dichiarato guerra. Cioè nonostante Mario resta varie settimane confinato in questo campo di concentramento e poi durante l'estate lei, Maria Montessori, compiva 70 anni in agosto. Il governo, anche rispondendo a questa allevata di scudi, il governo dell'India, governo britannico, le manda un telegramma in cui le dice, e questo me lo ricordo bene perché è una cosa che mi ha sempre anche commosso, le dice abbiamo pensato a lungo che cosa regalarle per il suo settantesimo compleanno e abbiamo pensato che la cosa migliore sarebbe stata restituirle il suo figlio e così Mario può riunirsi alla madre e le vengono restituite, vengono restituite due anche una certa libertà di movimento. Loro sono durante tutta l'epoca della guerra che rimasero là, non potevano muoversi, ebbero una grande protezione da parte della società teosofica per cui rimasero lì all'interno della società dove avevano un loro bungalow, lì organizzarono una scuola per bambini, un bellissimo bungalow perché io sono stata due volte per scrivere la biografia di Maria Montessori sono stata in India due volte dove lei è vissuta e ho potuto trovare nell'archivio, nella biblioteca, testi scritti da lei o su di lei in riviste della società teosofica che in Italia non ci sono, insomma ho trovato parecchio materiale interessante, non solo, ma ho conosciuto lì gli ultimi suoi allievi perché lei è poi rimasta in India fino al 49, quindi ha avuto gli ultimi allievi che lei ha avuto là, io ho incontrato queste persone di 75, 80, 85 anni, ma ancora molti in gamba che intervennero mentre ero lì a un grande congresso su Maria Montessori, andai apposta, e le ho potute incontrare e mi hanno dato delle testimonianze di grande interesse su di lei, come lei era, credo di avere intervistato gli ultimi allievi di Maria Montessori, quelli che lei ha avuto proprio nell'ultimo periodo, ed è commovente sentire quello che loro mi hanno detto su di lei, dunque lei viveva lì appunto in questo bungalow e avevano creato lei e il figlio la scuola per i bambini e lei sempre con questo suo ruolo di osservatrice, lì fra l'altro in questa scuola erano presenti bambini di tutte le nazionalità, non soltanto indiani, c'erano bambini di tutte le nazionalità, i figli di ambasciatori, di personaggi internazionali che vivevano lì, quindi lei ebbe modo in India di vedere uniti bambini indiani naturalmente, ma anche tanti bambini inglesi, tedeschi, svedesi, americani, perché erano inviati lì appunto i loro genitori per motivi di lavoro. e lei osservò appunto, ha già detto, che i bambini piccoli a qualunque nazionalità appartenga sono tutti uguali e poi dopo poi l'educazione che le fa diventare diversi. E poi bisogna capire di lei una cosa, per quello lei parlò tanto di pace in India, perché eravamo in tempo di guerra e sentiva un'urgente questa necessità. però appunto lei si rese conto che i bambini erano tutti uguali, che venivano, lei riteneva appunto che i bambini arrivassero da un'altra dimensione che era una spiritualista e che fosse compito nostro di conservare queste buone qualità. E fondamentalmente lei, il suo metodo non è solo un metodo pedagogico per come insegnare i bambini, ma è anche un metodo per creare esseri umani migliori, perché lei diceva se il singolo diventa migliore l'umanità sarà migliore e quindi il suo scopo era di cooperare a un'umanità migliore, quindi a un mondo migliore. Lei diceva se noi daremo una buona educazione a questi bambini saranno esseri umani migliori e se ne gioverà l'umanità tutta, ci sarà un mondo migliore. Ci diceva ci vorrà tempo ma si arriverà a capire questo che bisogna molto puntare sui bambini. Quindi io ho conosciuto parecchie persone che sono state allieve sue, ho conosciuto del suo editore quello che che era un signore indiano molto simpatico che stava in ufficio vestito semplicemente di una specie di gonnellina torso nudo e lui era assolutamente normale in mezzo a tutti questi libri e lui aveva fatto parte del comitato accoglienza che aveva ricevuto Maria Montessori quando era arrivata in India signora anziana naturalmente e poi siccome aveva la patente portava Maria Montessori e il figlio in giro a vedere un po' questa città e raccontava di lei tante cose curiose dunque i teosofi sono vegetariani e mi disse che lei non era mai riuscita a diventare vegetariana cioè apprezzava i cibi di vegetariana però non era mai riuscita a diventare vegetariana una donna che amava il cibo amava anche un bicchiere di buon vino era una donna molto molto vitale e in India lei per la prima volta abbandonò il nero lei si ho forse dimenticato di dire che dopo l'abbandono di Montesano lei si vestì sempre di nero come a lutto e abbandonò il nero solo in India in India sono le fotografie che la mostrano vestita di bianco con queste tuniche bianche con i fiori al collo vicino al figlio che il grande amore della sua vita è stato il figlio e quindi finalmente unita a lui apprezzata e stimata e mi hanno raccontato tante cose queste persone di come lei era di come si rapportava con loro il concetto fondamentale che chiesi come la consideravate e la risposta è stata sempre come una divinità venuta a portare un insegnamento gli indiani sono reincarnazionisti quindi una divinità o una grande anima tornata sulla terra per portare un insegnamento prezioso cioè per insegnare insegnarci a educare i bambini e a crescere appunto un'umanità migliore questo è il discorso in India al cospetto di quella vegetazione strepitosa che hanno lì prese molto corpo anche grazie a Mario che aveva una preparazione scientifica prese molto corpo l'educazione cosmica di Maria Montessori cioè il discorso del contatto con la natura il contatto diretto con la natura l'amore per la natura quindi lei può certamente essere considerata un'ambientalista anche se al tempo suo questo termine non era ancora stato coniato forse comunque lei ha parlato tantissimo ha scritto tantissimo anche da questo punto di vista sulla necessità per l'uomo di vivere a contatto con la natura per imparare a rispettarla e oggi sappiamo quanto sia importante questo tipo di discorso e poi a contatto con le donne indiane che portavano con tanta disinvoltura i loro bambini tenendoli su un fianco con un braccio solo mentre in Europa i bambini sono tutti fasciati stretti per un altro tipo di insegnamento lei cominciò a occuparsi dei neonati l'ho accennato all'inizio e lei che non aveva potuto tenere tra le braccia il suo bambino ci sono di lei invece delle fotografie con i bracci neonati e quindi ebbe una sorta di riscatto da questo punto di vista io ricordo che chiesi a una deliziosa signora che era stata allieva di Maria Montessori che poi si era occupata del metodo Montessori per tutta la vita perché aveva stata insegnante era venuta dall'Australia apposta per partecipare a questo convegno e io le chiesi siccome Maria Montessori l'ho detto prima non ha mai riconosciuto Mario come suo figlio finché è stata in vita e lo presentava come figlio adottivo allora le feci un po' malignamente una domanda ma lo sapevate che era suo figlio naturale e non suo figlio adottivo e lei mi disse ma si parlava un po' di questo c'era questa voce dice però noi non eravamo interessati a questo lo chiamano così international gossip invece tanto sorridere non eravamo interessati a questo international gossip per noi lei era la migliore delle madri e lui era il migliore dei figli quindi e questo basta quindi ebbero tanto rispetto anche di questo aspetto un po' particolare della vita della vita di Maria quindi l'importanza appunto per tutti questi aspetti per la pace l'ambientalismo di bambini neonati la pace soprattutto di questo periodo lungo furono costretti loro a fermarsi a causa della guerra ma non se ne andarono quando la guerra finì perché rimasero in India fino al 47 quindi due anni dopo la fine della guerra a tenere i loro corsi trovarono molto bene in India poi tornarono in Europa per qualche mese ritornarono di nuovo in India per tenere altri corsi e tornarono definitivamente in Europa in Olanda per l'esattezza nel 49 quindi complessivamente a parte una breve sosta di pochi mesi complessivamente dieci anni in India quindi un lungo periodo dove un lungo periodo molto fruttuoso tornarono in Olanda nel frattempo Mario nell'intervallo quei pochi mesi che erano stati in Europa in Olanda per l'esattezza si era sposato si era sposato con una signora che lo aveva la signorina anzi che lo aveva atteso tutti quegli anni sette anni che lui era stato con la mamma in India e che si era occupata dei suoi figli quattro figli pensate che lui per stare con la mamma non vide per sette anni i suoi figli quando tornò sposò questa deliziosa persona che si era occupata di lui ripreso i contatti naturalmente con i figli che lo amarono moltissimo poi quando tornò in India lei andò col marito tornò con sua moglie e anche con una minore dei suoi figli quindi tornano nel 49 in Olanda e lei riprende immediatamente la sua vita nomade riprende la sua vita nomade e ricomincia a fare i corsi era invitata da tutte le parti perché era sempre più famosa e viene anche in Italia perché in Italia fanno un congresso dedicato a lei e lei è accompagnata da Mario viene in Italia morre poi nel 52 non mi ricordo se viene nel 50 o nel 51 venne in Italia e col figlio solo loro due e volle che il figlio la portasse a Chiaravalle perché voleva rivedere il paese dove era nata Maria Montessori morì improvvisamente in Olanda nella città dove si erano stabiliti una piccola cittadina che guardava il mare e morì in questo modo questo l'ha raccontato il figlio Mario il figlio aveva incontrato durante la giornata l'ambasciatore del Ghana un paese africano che aveva avuto l'indipendenza da poco tempo da pochi anni e che aveva un grande problema di acculturamento della popolazione che era in gran parte analfabeta e allora avevano pensato di mandare il loro ambasciatore a parlare con con la Maria Montessori per chiederle di andare in Ghana a fare un corso per gli insegnanti ho detto anche prima che lei teneva corsi non per i bambini ma per gli insegnanti per insegnare a loro a insegnare ai bambini e il figlio arriva e dice arriva a pranzo diciamo e dice la mamma sai ho incontrato l'ambasciatore del Ghana che chiedono che noi andiamo in Ghana a fare questo corso e lei immediatamente disse ma andiamo ma certamente andiamo e lui dice ma mamma è una donna di 82-83 anni pesante con dei problemi di salute e dice ma ma è molto pericolo l'ha raccontato a lui questa cosa e l'ho riferita anche nel mio libro c'è un clima difficile è molto caldo insomma le fece notare tutte le inconvenienti di questa trasferta nel Ghana e lei insistette e disse no se ci sono dei bambini che hanno bisogno del nostro insegnamento sono proprio i poveri bambini del Ghana hanno bisogno di essere istruiti per avere un avvenire migliore e mandò il figlio a prendere l'Atlante perché non sapeva neanche esattamente in che punto dell'Africa si trovasse il Ghana e il figlio va a prendere l'Atlante in un'altra stanza e quando torna lei è morta compostamente la trova non si è mai capito se è stato un infarto un'emorrazia cerebrale insomma una morte praticamente istantanea lei chiese di essere seppellita dove fosse morta morì in Olanda e quindi è seppellita là una tomba che guarda in mare con una dedica sulla tomba dedicata ai bambini questa è la vita detta proprio in Soldoni la vita di Maria Montessori che avrebbe meritato naturalmente un approfondimento maggiore però spero di aver dato un'idea dell'iter di questa donna e della sua spiritualità della sua fiducia in questa rivelazione lei ha parlato spesso come ho detto di rivelazione sia quando scelse di diventare medico sia quando dalla medicina passò la pedagogia quando praticamente ha fatto più la pedagogista che il medico pur tenendo conto della sua conoscenze mediche quando organizzava le case dei bambini dove i bambini come dicevo prima venivano pesati misurati il cibo faceva fare la ginnastica anche questa è una cosa nuova non la faceva nessuno gli insegnanti faceva fare la ginnastica ai bambini stavano il maggior tempo possibile all'aria aperta il cibo attento adatto alla loro età e così via quindi teosofa lei fu in grande rapporto con Gandhi Gandhi l'aveva incontrata in Inghilterra poi si rivedero in Italia e quando andò in India invitata dalla società teosofica l'invito fu patrocinato da Gandhi che scrisse una lettera proprio per invitarla sollecitato dalla società teosofica che lui apprezzava e l'altro patrocinatore del viaggio di Maria Montessori in India fu il poeta Tagore che era vicepresidente della società teosofica quindi io quando sono andato in India perché c'era anche la seconda volta che andai c'era questo grande congresso c'erano pubblicate in grandi cartelli queste lettere di Gandhi e del poeta Tagore che auspicavano l'andata di Maria Montessori in India proprio per aiutare la popolazione quindi vi segnalo ancora questo libro questa biografia la quale tengo molto perché per scrivere sono andata anche due volte in India a Maria Montessori una biografia e l'ho scritta proprio con con grandi amori sono stata insegnante prima di di fare quello che sto facendo ormai da molti anni e quindi i problemi dell'educazione mi hanno sempre interessato quando poi seppi che Maria Montessori era teosofa e si era occupata anche di queste tematiche non ho più avuto e scoprì appunto la sua presenza in India non ho avuto dubbi sul fatto di scrivere la biografia e di scriverla in maniera completa cioè di andare dove lei ha passato dieci anni dieci anni fondamentali per la sua per la sua formazione e per quello che lei ha lasciato scritto quindi io spero di avervi suscitato un interesse per Maria Montessori donna oltre che pedagogista insegnante eccetera quella che ha scritto questi metodi questo metodo di insegnamento che si è ideato si è inventato di sana pianto un sacco di cose che oggi vengono utilizzate anche dove ovunque senza che venga citata Maria Montessori e quindi l'interesse per la figura di questa donna e per tanti aspetti suoi poco noti come che fu femminista che fu femminista nel modo in cui ho spiegato una femminista gentile però sicura nel chiedere quello che la donna merita che fu una grande patrocinatrice della pace che si occupò di ambientalismo tutte cose che di solito non vengano citate quando si parla di lei si parla del suo metodo però di tanti altri aspetti non si parla quindi secondo me è giusto rivalutarla anche da questo punto di vista e far conoscere questi altri aspetti della sua personalità che sono veramente importanti e completano insomma completano il quadro di questa straordinaria donna bene siamo arrivati alla fine della nostra ora spero che la chiacchierata vi abbia interessato vi saluto e vi do appuntamento per un prossimo una prossima occasione che sarà il mese prossimo non so ancora in che giornata ma comunque sarà annunciato buona nottata buona serata ormai è tardi buona serata a tutti e alla prossima arrivederci a tutti Grazie.